Allora Rosaria, buongiorno. Tu sei una delle allieve, più precisamente allieva al terzo anno di corso nella scuola di formazione CEAS. Parliamo con te delle motivazioni che ti hanno spinto a diventare una delle alunne allieve della CEAS. Da dove è cominciata questa scelta? Allora è cominciata in seguito alla fine del mio percorso formativo, io dopo le scuole superiori sono andata anche all'università e al termine mi sono resa conto che dopo tanta cultura dovevo per forza dare spazio anche alla mia parte creativa, quindi imparare a fare qualcosa praticamente. Mi sono rivolta un po' in giro e dal passaparola sono venuta a sapere dell'esistenza di questa scuola che è molto conosciuta sul territorio ed effettivamente questa non ha deluso le mie aspettative in quanto qui ho trovato davvero tutta quella professionalità che mi aspettavo appunto di trovare. Allora raccontiamo l'esperienza del primo anno, com'è stato l'impatto? L'impatto è stato meraviglioso in quanto ho trovato delle ragazze con cui potevo condividere sicuramente la mia passione per questo mondo, per quest'arte, l'arte dell'estetica, però è stato anche un po' difficile in quanto ho scoperto di avere delle potenzialità che neanch'io sapevo di avere prima, quindi confrontarmi inizialmente con queste nuove emozioni è stato senz'altro, diciamo, bello da una parte ma dall'altra un po' destabilizzante. Una volta capito invece, aiutata dalle mie insegnanti, meravigliose insegnanti, che ero sulla strada giusta, non mi hanno mai abbandonata, quindi hanno sempre cercato di trarre da me il meglio in tutto quello che affrontavo quotidianamente. Quali sono state le materie che ti hanno maggiormente incuriosito all'inizio? Allora, sicuramente l'estetica, la tecnica professionale è il cuore, diciamo, di tutto, però è supportata anche dall'anatomia, dalla fisiologia, dalla dermatologia, che sono tutte materie che non possono prescindere una dall'altra, in quanto collegate perché ciò che noi estetisti andiamo a trattare è proprio il corpo umano, quindi scoprirne tutti i meccanismi, il modo di funzionamento è molto importante per garantire il successo, appunto, nei nostri trattamenti. Ecco, quindi siete d'accordo sul concetto che nulla si affida al caso, all'improvvisazione, cioè bisogna studiare in pratica? Assolutamente sì, lo studio è fondamentale e l'impegno è la costanza, soprattutto perché soltanto studiando che si può arrivare appunto a costruirsi questa professionalità e questo modo di approcciarsi alle clienti che sono sempre diverse, sempre più esigenti al giorno d'oggi e quindi hanno bisogno di trovare delle professioniste veramente preparate. Ecco, qualcuno pensa che una scuola professionale sia una scuola dove si perda tempo, pensi la stessa cosa? Assolutamente no, e questo nella scuola CEAS lo dimostrano stesso le persone che ci lavorano, che affrontano appunto il loro lavoro quotidianamente con passione e questo dalla parte degli allievi si nota, si vede, stesso anche la direttrice, la nostra cara signora Borgia, ci mette tutto il cuore e la passione possibile e immaginabile proprio per renderci questo servizio più fluibile possibile, più completo possibile. Bene, poi si arriva al secondo anno e dunque Rosalia nel secondo anno si inizia a pensare se è il caso di abbandonare oppure di continuare, giusto? Sì, per alcune ragazze si è posto questo dubbio, per quanto mi riguarda assolutamente no perché ogni anno è concepito in base al grado di difficoltà che si andrà ad approfondire e affrontare durante l'anno e quindi finito il secondo anno è come se si interrompesse un percorso, assolutamente non bisogna farlo perché il terzo anno va a completare e a chiarire moltissimo tutto ciò che si è affrontato nei primi due anni, quindi dà davvero quel qualcosa in più che al secondo anno altrimenti non si avrebbe. Ecco, poi tra l'altro dà anche un riconoscimento, giusto? Sì. Un attestato che una persona può utilizzare nel corso della sua vita, giusto? Esattamente, c'è dalla possibilità di poter creare qualcosa di proprio, quindi di dirigere un proprio centro estetico, penso che sia l'aspirazione di ognuno di noi, avere qualcosa di proprio e poterlo gestire al proprio modo, quindi con la propria forma e modo di lavorare. Ecco, quindi in questi incontri che abbiamo avuto con la scuola professionale di CEAS abbiamo messo sempre in evidenza l'importanza di associare la conoscenza del corpo umano e quindi tutte le sue peculiarità e caratteristiche a quelli che sono gli studi e di conseguenza le materie che vengono abbinate. A proposito di materie, cosa ci dici dei docenti che tu hai incontrato durante questo percorso di formazione? Allora, sono stati, come ho già detto prima, sono stati meravigliosi in quanto ognuna di noi durante il percorso di formazione incontra delle difficoltà, ma loro hanno cercato di quasi individualizzare le proprie lezioni, in quanto ognuno di noi si presenta con un bagaglio culturale proprio, con un'esperienza e vissuti suoi e hanno sempre cercato di trarre il meglio da ognuno di noi, facendoci capire che esistono in questo vastissimo mondo dell'estetica delle cose che ci riescono meglio e che siamo portate a fare meglio, ma non per questo bisogna abbandonare altro, assolutamente, perché bisogna sempre sperimentare. Bene, quindi io ho un po' curiosato nei vari laboratori, qui le immagini in supporto ce lo stanno raccontando, in realtà sono tanti i temi che vengono trattati all'interno di questi percorsi di formazione. Qual è quello più simpatico, quello che ti ha maggiormente incuriosito? Allora, io sono arrivata qui pensando che l'estetica fosse tutt'altro, in realtà l'estetica che viene posta adesso è tutta nell'ottica del benessere, perché ovviamente viviamo in una società in cui c'è bisogno di ripristinare un attimo quelli che sono i nostri punti fissi, quindi tutto ciò che è rivolto al benessere, per quanto riguarda il massaggio, che era una materia a me sconosciuta, mi sono resa conto che effettivamente mi fa star bene, proprio lavorare in questo settore mi fa star bene e quindi io per prima ne traggo beneficio appunto da quello che faccio. Poi anche il trucco, nel senso che io prima di venire a scuola non avevo mai preso un pennello in mano, quindi non sapevo proprio da che parte cominciare, per me questo è stato un grandissimo scoglio all'inizio, inizialmente, però come ho già detto sono riuscita a superarlo perché mi è stato inculcato quel desiderio di sperimentare e di non avere mai paura di fare quello che ho imparato perché ne ho le basi, delle basi solide e quindi sicuramente la riuscita è assicurata. Bene, questa è un'altra cosa che mi ha colpito e che è una caratteristica della scuola di formazione CEAS, cioè quella che voi stesse come dicevi sperimentate le vostre stesse tecniche, quindi in realtà voi potete raccontare quello che dal punto di vista della paziente o cliente che dir si voglia, potete stare in un ruolo o nell'altro, cioè quella nel ruolo di estetista o nel ruolo di paziente, questa è una cosa molto interessante, molto curiosa. Interessante e piacevole, io aggiungerei. perché comunque nell'ambito dei tre anni noi per prime possiamo soffrire dei trattamenti che un giorno faremo anche alle nostre clienti e quindi è molto piacevole questo risvolto. Ecco, magari vedevo prima a proposito delle unghie, quindi anche curarsi, vale a dire che in questi tre anni in qualche modo avete trattamenti garantiti, assicurati, pertanto siete anche esenti da estetista, scherzi a parte. No, è molto importante perché comunque noi per prime l'attenzione della nostra persona la dobbiamo avere e non scordarci mai appunto che l'attenzione va non per un'estetica frivola, quindi per il discorso dell'apparire, quanto perché se curiamo la nostra persona quando ci andiamo a guardare allo specchio siamo meglio tutti quanti e quindi è importante. Quindi vive il benessere a questo punto, come si diceva prima. Esatto, esatto. Bene, poi trascorso il secondo anno sei passata al terzo, cosa è accaduto in questo terzo anno? Una rivoluzione. Una rivoluzione, perché davvero è su un altro piano, un altro pianeta direi, in quanto si riescono a chiarire benissimo tutti i dubbi e le situazioni ancora non completate del secondo anno e soprattutto il linguaggio che viene utilizzato nel terzo anno è proprio a garanzia di una professionalità completa perché così come il medico parla in un certo modo anche l'estetista deve avere il suo linguaggio e quindi è giusto affrontare le stesse materie che abbiamo affrontato nel biennio anche con un grado, uno scalino di professionalità in più che quello che poi al fine ci contraddistinguerà nel mercato del lavoro. Certo, sicuramente e tra l'altro c'è da dire che si è anche in una fase evolutiva a livello proprio sociale, quindi si è diventati più grandi e quindi si riescono a capire e a comprendere meglio oltre che delle terminologie anche i linguaggi del corpo e quindi di conseguenza mettere tutto in pratica, diciamo non è altro che la soddisfazione che il proprio lavoro è stato fatto bene per tutti questi anni. Certamente, vedere il risultato e quindi il sorriso da parte di una cliente che si è affidata alle nostre mani è senz'altro la soddisfazione più grande perché vuol dire non solo fidelizzare la cliente, quindi questa cliente tornerà da noi, ma anche capire che tutti i nostri sforzi e i nostri sacrifici comunque sono serviti per poter far felice e trarre il benessere in un'altra persona. Consiglieresti CEAS, la scuola di formazione CEAS a una tua amica? Senz'altro, sì sì, perché appunto oggi come dicevo prima c'è soprattutto il bisogno di imparare e imparare bene, sto dicendo, ad avere una professionalità propria ed è una scuola che comunque è a contatto con la realtà, che ci garantisce le ultime tecniche, le ultime innovazioni nel settore dell'estetica, ci pone davanti proprio a quello che il mercato chiede, quindi la domanda. In effetti anche con i nostri corsi di specializzazione, anche post scuola, io ad esempio so che l'anno prossimo, terminato il mio percorso di studi, non sarò sola perché evidentemente se mi uscirà una nuova tecnica, quindi un nuovo modo di lavorare, un aggiornamento, la scuola mi garantirà sempre la sua presenza. Questo è importante perché questo, come si diceva prima, è un mondo che cresce, quindi naturalmente non bisogna stare dietro, bisogna tenersi al passo con i tempi. Cosa vuoi fare da grande? L'estetista. Banale come domanda, la ritengo abbastanza banale, però ecco, al di là di questo, di questa tua formazione che va verso il meglio e chiaramente che noi ti auguriamo, rivolgi un invito alle tue colleghe e anche una parola di saluto ai tuoi docenti che appartengono al mondo CEAS e magari un invito a coloro che non conoscono il mondo CEAS ad avvicinarsi a questo mondo. Allora, vorrei consigliare vivamente a tutte le ragazze che sentono di avere una propensione per questo tipo di attività la scuola CEAS, in quanto è una scuola che davvero coniuga il mondo del lavoro con una professionalità altissima e questo lo si può vedere quotidianamente osservando le persone che lavorano all'interno della scuola e io se sono arrivata a questo tipo di conoscenza lo devo soprattutto alle mie insegnanti che ringrazierò all'infinito perché mi hanno proprio trasmesso attraverso la loro osservazione, cioè del loro modo di lavorare, la loro passione in quello che fanno che oggi sicuramente è la garanzia per il successo. Bene, allora Rosaria non abbiamo volutamente voluto invadere la scena con la nostra presenza, ti abbiamo lasciato inquadrata durante tutta questa intervista, non c'era nulla di scritto, io e te lo sappiamo, lo sanno le persone che in questo momento ci sono intorno, cosa possiamo dire in chiusura? Evviva CEAS! Evviva CEAS! Ok.